Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un episodio in esterna. Siamo qua, siamo in quel di Viareggio perché andiamo a trovare l'amico Giacomo, titolare della gioielleria Pasquale Domenici, per andare a vedere le novità del mese. È già un pochino che non ci andiamo. Andiamo perché purtroppo io devo, come al solito, dirvi che con noi da accompagnarci c'è il buon Piero, l'amico Piero. Ah, quello è il purtroppo, io pensavo che ci stavi per dire. L'amico Piero che è venuto con noi, giusto giusto per... e lui ci vuole far vedere l'orologio del giorno sicuramente. Non è niente di sconvolgente però. EK Watch. EK Watch. EK Watch. Degli amici di Modica, vero? Sì. Sì, Curi. Questa qua è il GMT, la versione GMT con la ghiera Pepsi. Bello, ti piace? Molto. E io invece ho il Longin Legend Diver, simpatico orologino con due corone, perché una serve per muovere la ghiera interna, eccola lì, la ghiera interna, col bracciale a chicchi di riso, fa sempre la sua sporchissima figura. Il quadrato... Andiamo, Piero, andiamo. Andiamo. Ah, una delle novità sarà sicuramente quella del film Dune. L'hai visto il film Dune? Sì. Come l'hai visto? No, ho visto l'orologio della Hamilton. Ah, ok. Non so neanche cos'è Dune. È un film. Che film è? È di fantascienza. È strano che non l'ho visto però. Aspetta, lo danno su Netflix? Dove lo danno? Al cinema. E allora non l'ho visto no. Io dove vado al cinema? Sono andato, una volta in vita mia sono andato al cinema. E praticamente poi, insomma, guardiamo quando siamo lì, guardiamo. Diamo anche un'occhiatina poi magari ai suoi, agli orologi usati che vende, no? C'è sempre qualche roba interessante. Il rapinatore è riuscito ad aprire? Eh sì, senza chiave. Ecco perché si è vestito così. Eccolo. Andiamo, andiamo, andiamo. All'arte. Allora, eccoci qua ragazzi, finalmente all'interno della baracchetta del buon Giacomo, che è qua che vi saluta, per dare un'occhiata a qualche orologino, qualche novità, qualche nuovo arrivo, tra cui vedo anche dei dialogi molto particolari, che sono dedicati a una nicchia di pubblico, no? Diciamo così. O mi sbaglio? No, no, no. No, giustissimo, giustissimo. Dopo magari entriamo nei meriti, nello specifico. Da dove possiamo iniziare? Fammi vedere. Allora, io inizierei da quello che è... Allora, è già un po' che io gli stavo dietro a questo orologio, eh? Gli stavo un po' dietro. È il Vulcan Grand Prix, che a me mi è sempre piaciuto quando l'ho visto che è uscito e aspettavo... Anche verde esiste. Non è un Grand Prix. Ah, non è un Grand Prix, come? I colori del Grand Prix sono tre, i due che vedete lì, e poi diciamo una finitura leggermente champagne, che abbiamo già consegnato al proprietario, in questo momento non l'ho disponibile. Jean Bagne per brindare a un ingondro, come si suol dire. Eccolo qua, il Vulcan Grand Prix. Perché mi piace? Perché è veramente l'orologio semplice, elegante per antonomasia. Oddio, non è un dress watch perché è 39 mm, però si può considerare contemporaneo elegante. Qua lo vediamo nero e bianco, senza data, il calibro è il Landeron L24, se riesco a metterli a fuoco. Ora, tra i due a me quale piace di più, come al solito a me piacerebbe di più il nero, però vedo che si legge meglio il bianco, per assurdo, per assurdo si legge meglio il bianco. Va bene, è un orologio con fondello chiuso, semplice, essenziale, nodata, nodata. Infatti si vede che gli indici sono tutti a corollario, sono perfettamente in equilibrio, simmetrici. E io quasi quasi uno di questi due lo prenderei da portare a casa per fare una recensione. Quale piglio, il nero o il bianco? Io piglio il bianco. Prendo il bianco, anche se di solito scelgo gli orologi neri, preferisco il bianco in questo caso. Ci piace molto il bianco. Sì, diciamo che è un completamento un po' di linea per quanto riguarda le famiglie Vulcan, perché mancava un orologio un solo tempo, molto lineare. Tra l'altro con un prezzo molto interessante, l'ultimo diciamo orologio tra virgolette abbastanza semplice che aveva presentato casa Vulcan era lo Skin Diver. Nella versione ovviamente Diver, qui abbiamo una linea un pochino più elegante, un pochino più da tutti i giorni. Sì, praticamente con questo orologio qua Vulcan va a completare una collezione di orologi che va dal cronografo allo svegliarino, al monopusher, al diver, e adesso diciamo l'orologio elegante. Quindi ce n'è per tutti i gusti. E poi riesce a farli anche con delle dimensioni umane, sia lo Skin Diver che questo sono, diciamo... E poi quello che io avevo scambiato per un... Un Cricket da 39 mm a carica manuale. Lo avevamo già visto ovviamente con altri livrei di colorazioni. Questa è una colorazione nuova, non è la sola, perché hanno aggiunto tutta una serie di colorazioni, tutte con indici, come le vedete qua. Ovviamente nel rinnovo annuale che la Vulcan fa, ovviamente va anche a giocare sugli effetti cromatici, magari mantenendo il solito prodotto, ma come dicevo giustamente giocando su varianti nuove. Questo è molto bello, molto interessante. Non ho acquistato al momento le versioni da 36, perché le trovo un pochino troppo piccole. Ah, perché c'è anche da 36 questa versione? Sì, c'è anche da 36, però io la prediligo in questa misura. Secondo me è una misura che si adatta bene a qualsiasi tipo di polso. La 36 la vedo alquanto femminile come dimensione, anche per i maschietti che hanno i polsi non tanto grandi, però secondo me questa qui si adatta benissimo. Comunque vi ricordo che il Cricket qua è al calibro di manifattura Vulcan, svegliarino, cioè la complicazione svegliarino. Infatti se voi guardate il fondello qua, lo vedete. Questi orologi possono essere personalizzati con tutta una serie di caratteristiche ovviamente già predisposte. In primis è fondello chiuso, fondello aperto e poi tutte le varianti ovviamente di allestimento cinturino. Comunque sarebbe da verificare se il suono, la vibrazione è migliore nel fondello chiuso così con queste casse di risonanza oppure nel fondello con il vetro a vista che ti fa vedere il caldo. Diciamo che nella versione, magari possiamo prendere anche una perché ce l'ho in vetrina, nella versione col fondello a vista la particolarità è che c'è un ponte centrale che tiene tutta la meccanica a forma di V, di Vulcan ovviamente. È molto particolare, molto iconica per quanto riguarda sia il marchio ma anche proprio la meccanica perché è una loro meccanica di manifattura. Io non disdegno anche i fondelli chiusi alla fine soprattutto con questa funzione qui. Però è vero che quel calibro è bello da guardare. Sì, è bello perché è unico. Quindi uno può scegliere un pochino tra le due o pozioni. Poi cosa abbiamo di simpatico? Sempre è un allargamento di linea per quanto riguarda le colorazioni. Ne avevamo già viste diverse. Qui avevo preparato un silver con contatori neri, un classico panda che era ovviamente l'uscita dell'anno scorso, il 2023. Quest'anno ovviamente la famiglia si allarga e hanno presentato questo verde, verde anche abbastanza forte, abbastanza intenso come colore con i contatori argento. Oddio, qua si va a gusti, eh? Perché chiaramente il panda è il classico panda, no? Proprio come vorrebbero tutti il cronografo se lo immaginano così, con questi colori qua belli. Oppure c'è questo verde mentona invece che mente. Sì, mentona, sì. Sì, ricordo che volendo questo orologio esiste anche con il quadrante blu. Esisteva, perché effettivamente la tiratura è terminata, il reverse panda, cioè nero contatore argento, esisteva, che era proprio la prima uscita, ve l'abbiamo fatti vedere, ve l'abbiamo venduti, sono ovviamente terminati da tanto tempo, i famosi, i rosè, quello che possiamo chiamare il salmone, la tiratura, ricordiamo, 50 pezzi, ormai esaurita da tanto. Sì che ecco, diciamo che la Vulcan ci sta abituando ovviamente a prodotti nuovi, prodotti ovviamente sempre più particolari anche a livello di colorazioni, di varianti cromatiche. Forse il Grand Prix è l'orologio più semplice che è presentato fino ad oggi. Diciamo che può essere considerato anche l'entry level del marco. Sì, l'entry level è anche per una questione di fascia prezzo. Comunque la cosa che si può fare è che Vulcan non è sbaglia uno, perché va a vedere questi tre. Sì, no no, c'è proprio da... Sì, comincia a diventare un catalogo molto vasto. Poi cosa saremo di nascosto qua? Allora, questi qui niente, sono logiche abbiamo già visto, li ho rimessi sul tavolo per una valutazione, perché siamo un pochino abituati a far vedere prodotto nuovo, continuamente prodotto nuovo. Sì, ho detto, ma in attesa ovviamente delle uscite di Oris che verranno presentate a Ginevra in aprile, ho fatto un richiamo di quelle che sono i cavalli di battaglia del marchio. Allora, questo ovviamente è un Aquis, fa parte della famiglia Diving, questo nello specifico è un Aquis da 41,5, è uno degli orologi più venduti ovviamente di casa Oris e forse anche più rappresentativo come estetica, perché il loro Diver come forma di cassa e di bracciale è unico. Sì che ecco, ve lo volevo far vedere, a volte andiamo a cercare marche nuove, prodotti diversi, ma Oris per quanto riguarda i prodotti da immersione rimane un bellissimo orologio ben realizzato, a mio parere con una fascia prezzo veramente interessante. C'è anche da dire che l'Aquis è uno di quei modelli che viene declinato, a parte vari diametri, anche configurazioni di quadranti, ci sono i più disparati colori. A volte tornare a vedere un colore un po' sobrio così, come questo blu, che pur essendo soleil tende al nero, fa anche piacere perché tra i tanti colori che si vedono poi si torna al classico. Sì, addirittura è un soleil che degrada fino al nero e poi si completa con l'inserto Ghiera che è in ceramica, nero, che vedete che è proprio la tendenza a una colorazione più scura che chiara. Comunque l'Aquis, diciamo che può essere considerato il cavallo, si vendono più Aquis o più Diver 65? Allora, diciamo che c'è stata un'alternanza di vendite. Abbiamo venduto tantissimi Aquis, poi ovviamente con la presentazione del 65 si è un pochino ridotta la vendita degli Aquis e è diventata predominante. 65 è il blu, ci abbiamo qua. Però è anche da dire che il 65 è arrivato in un momento dove predominava sul mercato la tendenza all'orologio vintage. Sicché diciamo si è fatto un po' spazio con i gomiti anche perché è un bello orologio con ottima qualità a prezzo. Siccome, vorrei dare un'informazione già che ci sono ai follower a casa, non esistono più in catalogo le versioni acciaio e bronzo dei 65. Che è quello che vedete nel video di Davide che lui ogni tanto porta perché ce l'ha su di proprietà. Quindi lo posso vendere tantissimo. Lo puoi vendere, aspetta ancora un pochino e poi milioni di euro. Poi lì c'è il valore aggiunto che è tuo. E anche la versione col quadrante color tabacco sono esauriti. Me ne arriverà uno, un ultimo pezzo che mi hanno assegnato da casa madre e poi sono terminati. La novità che tra l'altro è una novità abbastanza recente era questo full bronze che esiste braccialato bronzo o cinturinato gomma che io lo trovo bellissimo. In primis perché a differenza dei classici 65 che sono da 40 mm questo è un 38 che misura direi top. E poi effettivamente questa colorazione bronzo in contrasto con questo nero assoluto del quadrante secondo me è bellissimo. Comunque sai perché funziona bene questo da 38? Perché è 38 ma è anche sottile. Ma questa è una prerogativa di tutti i 65. Se l'IT SW200 è vero che è un diver 100 metri tra virgolette, un 100 metri con coronabite che vi permette per quanto riguarda l'acqua a meno che non siate dei sommozzatori esperti di fare tutto quello che volete. Però ovviamente qual è il vantaggio? Il vantaggio è di poter offrire uno spessore veramente contenuto. Bello, questo qua mi è sempre piaciuto. E poi questi qua sono girati qua cosa c'hanno di così? Ah, Maurice Lacroix? Questa è una novità, non l'ho mai visto io. Questa è una novità, allora è un quadrante come fondo di colore già visto. Era stata fatta una serie limitata che era uscita nell'estate 2023 ricordiamo diciamo un arancio e questo color celestino barra tifani. In numeri, praticamente è una versione del Maurice Lacroix Icon che tutti conosciamo con i numeri arabi. E cosa sarebbe questa? Un'edizione limitata o no? Allora sì, questa qui è un'edizione non è numerata è un'edizione fatta in una certa quantità vera tenuta in produzione per un periodo è dedicata ovviamente al Medio Oriente però ovviamente poi è stata distribuita un pochino in tutti i paesi e la particolarità che hanno preso questa numerazione con i numeri arabi. Guarda che ci sono tutta una serie di appassionati che vanno alla ricerca dei quadranti con i numeri arabi in questo modo qua mi ricordo che c'è un secco 5 poi altri modelli non ricordo che ce ne sono. Possiamo aprire anche una parentesi solitamente noi distinguiamo i quadranti ovviamente là dove c'è una numerazione tra numero romano e numero arabo il numero romano è quello ovviamente con le stanghettine, le x, le v quelle che si trovano ovviamente che deriva dalla nostra storia poi volendo c'è la numerazione quella che usiamo in matematica che viene considerata numero arabo perché deriva ovviamente dalla numerazione araba questa è quella originale sì che poi sarebbe anche sbagliato dire la nostra Guarda che è presente anche sul dettaglio guarda che curiosità è presente anche sul datario i numeri no questo è veramente interessante per chi vuole qualcosa di diverso per chi non vuole il classico indice sì che ecco secondo me è veramente interessante come allestimento secondo me potrebbero anche svilupparla in altri colori che avrebbe successo vabbè poi il classico Icon ragazzi questo qua sono anni che io ne parlo che ho fatto recensioni su recensioni in tutte le versioni possibili scheletrato con i tatuaggi come c'era il mio amico Piero bellissimo e questo qua invece è una versione che sì sempre sempre come il precedente con cassa da 42 mm praticamente hanno aggiunto un'altra colorazione questa volta non solo come quadrante ma anche come finitura di cassa è una cassa brunita PVD come vedete è leggermente più scura leggerissimamente si si appena appena è una po' canna di fucile se lo vogliamo definire così c'è anche un'altra particolarità guardiamo se te ne accorgi non c'è la data bravo è senza data ma esistevano già? no è la prima volta che vedo un Icon senza data sì l'hanno voluto rendere un pochino più sportivo ci sono i suoi vantaggi ovviamente su questo orologio in primis le finiture della cassa e del quadrante più particolare perché non ha la data se vogliamo trovargli un difetto non si potrà integrare il bracciale classico degli Icon perché hanno una colorazione acciaiosa più accesa e andranno a contrasto ovviamente con la cassa brunita ovviamente invece è sempre quello con la data e no non c'è ho controllato adesso così giusto per voi non c'è lo scatua data fantasma alla corona quindi hanno messo il calibro corretto quello senza datario al di sotto e poi penso che si potrà usare tutti i cinturini invece magari chiedendo da casa madre una piccola variazione sui terminali cioè recuperando i terminali di questa versione qui e applicati sui vari cinturini a disposizione a meno che poi non ampliano la linea e mettono altri colori quadranti, colori cinturini logico che poi magari questo è solo un test non è l'unica tiratura che arriverà ricordiamo che siano 888 pezzi ne arriverà un'altra che è praticamente la versione con cassa pvd blu si cassa proprio tutta blu cinturino gomma bel pezzo anche quello doveva già essere qui molto probabilmente casa madre non lo aveva a disposizione per la spedizione era un pochino che non parlavamo degli icon in effetti ci sono un paio di novità che erano rimasto indietro io oppure sono veramente e poi qua c'è un orologione mi sembra fammi vedere il prezzo qua prima di farlo vedere perché quanti ne prendete di questi Piero? 5 14.995 no 4 allora 4 nemmeno 15.000 14.995 facciamo vedere siamo sicuri cos'è? Frédéric Costant Frédéric Costant oh là là oh là là questo è ovviamente Turbion fa parte dei top level far parte? dei top level della Frédéric Costant è capace di fare orologi a un prezzo contenuto e orologi che sparano con delle complicazioni incredibili allora la verità è che per le complicazioni che offrono anche questo è un prezzo contenuto cioè sembra strano da dire no? però un Turbion alle soglie dei 15.000 euro nessuna nessuna non è vero perché ci sono diverse case che l'hanno offerto ovviamente la Frédéric Costant la offre con un livello ovviamente di lavorazione molto interessante per il prezzo con cui esce mi sembra che alle soglie dei 20.000 ci siano dei Taghear mi sembra che ne faccia uno la IEMA a 12.000 euro su una cassa un pochino più sportiva devo dire la verità io il Turbion lo concepisco su una cassa molto elegante secondo me la Frédéric Costant con questo prodotto ha centrato pienamente l'obiettivo ovviamente ora io stavo per dire che non c'è la sfera dei secondi invece proprio qua sul perno centrale del Turbion sì quella lì è ovviamente la gabbia del Turbion particolare c'è molta lavorazione ovviamente il Turbion serve per eliminare anche quelle piccole perdite di oscillazione che ci sono diciamo che ha più senso come complicazione per volerla avere in collezione perché ormai anche un Hamilton da 1.000 euro va scarta di due secondi non ce n'è più bisogno era nato questo soprattutto per gli orologi da tasca che rimangono sempre nella stessa posizione un taschino così quindi va a compensare girava tutto in questo caso qua l'orologio al polso te lo giri sempre si compenserebbe da solo però è una complicazione che richiede savoir faire come si suol dire saperci fare know how e poi come ultimo botto qua ragazzi si va sul pesante qui abbiamo un'uscita di cui in questo periodo si sta parlando tantissimo la passo sono due orologi similari ma diversi come estetica mamma non so nemmeno cosa dire di questo Hamilton dedicato o addirittura fatto in collaborazione col film Dune tra l'altro possiamo già dire che è un film che sta riscuotendo ovviamente al cinema tantissimo successo è il remake di un vecchio film tra l'altro di una bellissima di un bellissimo libro di una bellissima storia e questa ovviamente l'Hamilton è riuscita come fa spesso perché ha una collaborazione con Hollywood molto importante è riuscita anche questa volta ad entrare dentro il film e mettere l'orologio al polso del personaggio ovviamente parte da da quello che è stato realizzato per il film che è un orologio molto grande che magari in qualche immagine online potete trovare se guardate il film e fate attenzione al polso lo potete anche vedere io sinceramente sono andato a vedere il film ero talmente preso da questi paesaggi che non ho mai guardato il polso del protagonista però vi invito a farlo di conseguenza nascono queste due versioni questa che è quella che deriva proprio dal modello che ha il polso il protagonista e è quella che è in tiratura limitata 2000 pezzi entrambi gli orologi hanno un pulsantino questo sopra la corona che serve ovviamente per illuminare il quadrante con questo blu acceso che è tipico è tipico colorazione di cui sono caratterizzati i framing che sono altri personaggi dei film ecco lì si riesce a vedere come vedete si illumina anche quel piccolo gioco stilistico sul quadrante gli orologi sono in tiratura lì dove hai mostrato ora sul fondello si legge 0479 su 2000 ok la differenza con questo qual è? la differenza è che questo non è in tiratura di questa versione qui l'unica cosa che è in tiratura è la scatola verranno fatti verranno fatti praticamente 3000 esemplari con la scatola speciale successivamente entrerà in catalogo senza scatola se vi ricordate è la stessa cosa che è stata fatta con il MARF da 42 mm quando uscì la prima volta furono fatte 1000 scatole ci fu la corsa veramente all'acquisto me l'hanno chiesta per almeno due anni di fila di poter avere quella scatola lì ma erano solo 1000 di questo qui saranno solo 3000 la differenza tra i due orologi che quello lì è una cassa inedita che deriva direttamente da quella del film qui è stata usata la classica cassa dell'XL Ventura XL e il pulsantino lo trovate a ore 9 ovviamente dove si illumina eccolo qui il pulsantino lo trovate qui a ore 9 veramente carino ovviamente questo ha un prezzo anche leggermente più basso perché è una cassa già vista però ecco se vi sbrigate potete accaparrarvi quella con la scatolina è un orologio per gli appassionati del film allora qui abbiamo fatto già delle recensioni noi su Instagram e ovviamente da tanti di voi a casa è un orologio che è stato criticato un pochino perché è comunque sia un quarzo perché dentro ha anche la parte che si illumina ha un'estetica molto particolare allora noi ovviamente vi abbiamo sempre proposto un orologeria tradizionale ovviamente è un orologia meccanica carica manuale, automatica per tutti gli amanti ovviamente di quelle che sono i tecnicismi di questo prodotto Dune è un orologio che si acquista con un criterio un pochino diverso lo acquista quel cliente appassionato ovviamente di orologi dedicati al cinema o comunque sia che hanno collaborazioni con altri brand o film o comunque sia personaggi molto forti lo compra soprattutto chi vuole avere qualcosa dedicato al film Dune o un orologio che è uscito in un momento particolare in un momento anche della storia cinematografica particolare assicché segue criteri di acquisto diversi da quelli che solitamente vi proponiamo in questo canale è un orologio da collezionismo cioè non è certo l'orologio che deve comprarsi chi vuole il primo orologio importante nella collezione si può anche farlo per l'amor del cielo ma prima di arrivare a questo c'è un percorso da fare un orologio da collezionista che ama diamanti del genere e del film soprattutto adesso amico Piero se cosa facciamo? e a provare un paio d'orologi a caso a caso Cassio? no Cassio non c'è Cassio qua non ce li abbiamo non ce li abbiamo andiamo dai guarda che orologino cos'è? Rado Capitan Cook grigio 999 pezzi grigio coso? esaurito ah esaurito? sì col braccialino così a chicchi col braccialino e poi bum 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 ah c'è tutte queste cose cioè queste qua sono le maglie in più che sono avanzate come è lungo gomma pelle cioè è nuovo è già venduto eh? è già venduto? no questo lo devo vendere ma hai usato questo? usato ah sto qua fa parte dell'usato? sì sì fa parte dell'usato ragazzi sto qua fa parte dell'usato bellissimo è come nuovo sembrava nuovo affatti anche sto qua l'ho usato anche questo lo sa questo lo sa che piace a me no è che il Carrera io ho fatto ho fatto la recensione di quello blu ma è questo qua questo diciamo è la versione un pochino più a te piace poi la proviamo a te piace la versione è un pochino più ricca questa qui perché c'ha c'ha gli indici e le sfere in oro mi sta proprio preciso è la tua mia sì ma ci sono le magliette a poter rimettere c'è troppa luce a te ne è sempre piaciuto c'è sto qua l'ha dato indietro qualcuno sì un matto un matto questo qua da tenere posizione da vedi cecchini bellissimo tra bello e anche sto qua è usato e l'amico Giacomo c'è il secondo impulso come si deve non c'ha le robette strane ora l'orologio c'è una tasca meno male sì ovviamente mi dispiace per tutti i colori a casa a cui devo dire di no ma per proporre un prezzo un prodotto decente devo fare anche una selezione ovviamente tra gli usati sì è meglio vedere solamente un paio di orologi così belli come nuovi piuttosto che tanti che non hanno appeal diciamo così con le edox lì tutto rosso cosa è? mi hai visto? davvero ma sarà al quarto sai è sempre bello qua ma è automatico eh sì ma non è come grande è bellissimo è altissimo bello 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 bella bestia questo qua voglio provare il edox colori rosso che bestia è gigante è gigante ma questo quando è arrivato? questo rosso no questo è già un po' che ce l'ha è gigantesco gigantesco sì tra l'altro non è neanche poi eccessivo è un 40 mi sembra un 42 lo facciamo vedere per gli amici che amano magari le misure importanti forse si era già fatta anche vedere sì perché questa è una cassa questa è una cassa in strati di carbonio e viene fatto ovviamente un la cassa molto grande e poi viene elaborata con la fresa per dargli la forma definitiva però prima viene fatta a strati e pressata ah ho capito sì praticamente ti trovi un rettangolo pressato e poi dopo gli dà la forma e poi gli danno la forma la particolarità che questo qui è un cronografo da immersione con i pulsanti funzionali a vite e la particolarità che ha anche la valvola per l'espulsione dell'elio che è un'altra parte della cassa questo è un oggetto molto tecnico tra l'altro viene fatto con la cassa rossa con la cassa blu con la cassa grigia ne ho già avute diverse versioni e le ho vendute tutto a vite si un'allogio molto tecnico molto particolare è tecnico è il tool watch devo dire a vita a volte vendiamo queste tipologie di prodotti queste casse molto innovative su marche molto molto costose e importanti e poi magari ci sono marche ovviamente meno blasonate che creano delle cose molto tecniche però poi dopo magari per la fascia prezzo con cui escono vengono un pochino più penalizzate io lo comprendo questo genere di orologio è tecnico si deve andare anche in barca o da qualche parte no? bello è un po' come il 3000 metri di oris quello che è molto molto tecnico però ovviamente è un orologio che di certo non ci va in ufficio con la giacca e la cravatta però se vuoi un orologio particolare con una persona molto sportiva un orologio eccezionale quanto costa guardiamo quanto costa neanche tanto 3550 se considerate quanto costano mediamente i cronografi questo per la tecnica di costruzione che hanno non è neanche tanto è vero il cronografo è sempre più costoso del resto del mondo panorama orologero come si dice? panorama orologero basta basta allora ragazzi eccoci qua siamo nella amici un caro saluto a te e va bene è così vi ringrazio per essere arrivati fino qua un caro saluto da il buon Giacomo l'amico Piero che lo metteremo in un castigo e da me e vi ricordo come al solito gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love a te Grazie a tutti.